Ciao Marcello, sono Franco. L'altra volta, ascoltando la tua trasmissione, ti ho sentito dire che noi tifosi juventini anti-allegriani non ci facevamo mai vedere nei selfie e quindi ho risposto presente. Ti spiego un attimino quali sono i miei dubbi su questo allenatore. Io non sono sempre stato un anti-allegriano. A me il primo anno piaceva molto Allegri perché lo ritenevo l'allenatore ideale per quello che poteva essere un po' sconte. L'allenatore che era un po' l'antitesi di Conte, che avesse un approccio diverso e quindi lo ritenevo proprio adatto per quella fase della crescita della squadra. Tant'è vero che lui il primo anno ha fatto benissimo. Lui ha iniziato a non piacermi quando l'anno scorso e sta confermando di non piacermi quest'anno. Proprio perché trovo in Allegri... cioè lo trovo... trovo che si è un po' montato la testa da quella finale di Champions. Non vedo più in lui quella voglia di migliorarsi e di migliorare la squadra. Lui si adagia troppo sulla superiorità della Juventus e sulla mediocrità del campionato in cui giochiamo. Tant'è vero che lui ogni anno, secondo me, commette troppi errori, ma alla fine riusciamo sempre a vincere. Ma perché? Perché semplicemente siamo la squadra più forte. Io se avessi Allegri davanti gli chiederei, mister, ma perché ogni volta la squadra entra in condizione troppo tardi? Perché si gioca così male? Perché troppi infortuni? Perché questa confusione tattica? La risposta non può essere sempre aspettiamo marzo, aspettiamo marzo. Perché secondo me le stagioni iniziano ad agosto e finiscono a giugno. Ad agosto la squadra non può essere perfetta. Non può essere neanche a settembre, però da ottobre in poi ci si aspettano dei miglioramenti. Questa squadra qua invece non ha mai avuto miglioramenti. Indipendentemente dal risultato. Ripeto, il risultato se non funziona è del fatto che la squadra è troppo più forte delle concorrenti. Però arriverà un giorno il Barcellona di turno, il Real di turno e tutte le altre squadre che sono nel nostro stesso livello che mostreranno quelle che sono le fragilità di questa squadra. Basta vedere il doppio confronto con il Milan. Un Milan molto modesto è riuscito con una buona organizzazione a imbrigliare questa Juventus. Tant'è vero che su quasi 200 minuti giocati in campionato e in Supercoppa italiana i valori sono stati completamente azzerati tra le due squadre. Beh, questo è una cosa che non me lo spiego. Discorso gioco. Perché si gioca così male? Per esempio, si spendono 90 milioni per Iguain. 90 milioni Iguain li vale tutti. Però se tu prendi Iguain a 90 milioni sai che devi fare un determinato tipo di gioco per far sì che lui possa dimostrare di valere 90 milioni. Se tu prendi Iguain e giochi a lanci lunghi, così non valorizzi il giocatore. Ma come non valorizzi Iguain? Non valorizzi neanche il pianice di turno e tanti altri calciatori. Perché per me il gioco non vuol dire fare 80% di possesso palla, tiki-taka, tiki-taken. Il gioco significa che i giocatori vanno in campo e sanno quello che devono fare. Se si fanno troppi lanci, vuol dire che i giocatori non sanno cosa fare, non c'è movimento senza palla, non ci sono idee di gioco. Una volta queste idee c'erano. Mi ricordo Juventus Real Madrid due anni fa. La Juventus fa gol con Moralta dopo 21 passaggi di fila. E narra il duto al fatto che c'erano Pirro, Vidal e Tevez. Perché le individualità non incidono molto sul gioco. Sul gioco incidono le idee. L'idea, l'impostazione. Alla Juventus serve identità. Secondo me è il gioco quello che determina la credibilità di una squadra, la sostenibilità nel lungo periodo di una squadra. Perché secondo me, se a Montella, al Natore del Milan, i cinesi costruiscono una squadra decente, io ho paura che lui possa veramente insidiare questo predominio della Juventus. Perché Allegri si sta adeggiando sulla sua superiorità. Questa superiorità può essere più marcata, solo che a lui sembra che non interessi dimostrare che questa squadra può veramente fare molto meglio di quello che sta facendo. Io comunque resto fiducioso, perché secondo me la Juventus può fare una grandissima stagione, soprattutto una grandissima Champions, ma le cose devono cambiare, ma non a marzo. Da domenica questo. E con questo ti saluto. Spero che voi riusciate a capire il nostro punto di vista, non chiamarci sempre occasionali. Un abbraccio.